bentornati prendiamo adesso questa immagine di questa ragazza colori è un'immagine oltretutto di una qualità piuttosto bassa un'immagine piccola vedete però è una bella immagina perché è un tipo di ragazza un tipo di occhi un tipo di inquadratura che invita proprio a questo gioco di toni per rendere l'immagine anche più particolare come particolare lo sguardo di questa ragazza possiamo rendere particolare l'insieme dell'immagine allora intanto direi di riprendere un attimo la scheda base e in questo caso vorrei aumentare un po la chiarezza portarla ad esempio un 50 per cento e abbassare un po invece la vividezza a un meno 20 meno 19 meno 20 ok dunque già creare un po più di contrasto e adesso applico la divisione di toni senza passare però prima a un bianco e nero allora guardate intanto do una leggera priorità alle zone scure ma di poco è proprio un intervento molto sottile e scegliamo intanto la tonalità vedete ci avviciniamo verso un giallo ok può essere questa tonalità del giallo e poi decidiamo la saturazione e qui diamo una saturazione non troppo elevato in realtà io do sempre saturazioni basse perché altrimenti perde la finezza a volte l'immagine no adesso proviamo a decidere la tonalità per le ombre e qui cambio la tonalità vedete la porto a un colore trabciano e blu dunque sicuramente a un colore freddo ok aumento questa volta la saturazione e qui aumento tanto la saturazione portiamo tipo a un 50 direttamente vedete abbiamo creato questo effetto vedete guardate il prima e il dopo vedete che è un effetto molto particolare questo effetto rende naturalmente di più se applicheremo e lo faremo tra poco una vignettatura dunque rendiamo queste zone attorno più scure però prima di fare questo vorrei intervenire ancora su alcuni dettagli per questo portiamo intanto l'immagine a un 100% vedete e prenderei il pennello vedete di regolazione lavorando intanto sulle labbra e qui abbasso sicuramente la dimensione e anche la sfumatura abbasso un po qui mi avvicino e abbasso flusso e densità aumento un po la sfumatura vedete e passo qua sopra vedete che qui come colore è stato impostato un colore è viola nascondo un attimo il punto abbasso un po la nitidezza e anche un po la chiarezza vedete e così già l'aspetto è migliore proviamo a vedere al 100% bene direi che possa andare bene poi interveniamo magari anche sugli occhi riprendo di nuovo il mio pennello vedete questa volta cambio colore scelgo ad esempio un colore giallo con forte nitidezza forte chiarezza vediamo un po vedete così li rendo un po più scuri abbasso le ombre aumento le ombre aumento la chiarezza e aumento leggermente l'esposizione ok guardate prima e il dopo vedete che li abbiamo intensificati e poi infine possiamo passare qui alla scheda di nitidezza crea un po di nitidezza vedete sugli occhi tolgo naturalmente tutti i dettagli e premendo il tasto alt vi ricordate applico la maschera in modo che la nitidezza venga applicata vedete solo sulle zone della maschera che più che sufficiente mi avvicino di nuovo al viso ok abbiamo adesso superato il 100 per cento e applico un po di luminanza vedete non tanto sui colori quanto sui dettagli ok creando questa pelle molto morbida il prima e il dopo ok proviamo adesso a vedere l'insieme dell'immagine guardate l'immagine originale ok che è bella è una bella ragazza più che altro per questi occhi è molto belli molto intensi però guardate il risultato che ne abbiamo creato decisamente molto più interessante molto più accattivante che esprime più carattere forse poco morbido ma proprio più carattere più determinazione e questo grazie a questa impostazione vedete di luci e di ombre con la divisione di toni voi potete ottenere qualsiasi tipo di risultato tra l'altro vorrei tornare un attimo a questa scheda a farvi vedere un piccolo trucco per vedere bene la tonalità dei colori vedete potete premere il tasto alto per opzione per mac e passare vedete qui vedete i colori a piena saturazione dunque qui vedete date proprio l'idea come sono i colori che state selezionando io qui avevo un 71 riprendo il mio 71 perché la combinazione mi piaceva abbastanza ora nel prossimo video training andremo invece vedere come applicare una vignettatura perché qui sicuramente come in altre immagini che abbiamo già elaborati la vignettatura secondo me è indispensabile